Sono Pedro, sono un attivista di Extinction Rebellion del gruppo locale di Torino. Registro questo video perché il 25 luglio scorso è successo un fatto molto grave. Durante un'azione diretta non violenta, un'azione di protesta rivolta alla regione Piemonte, 5 persone sono state notificate con un foglio di via obbligatorio dalla città di Torino. Quindi io e altre 4 persone siamo stati obbligati a lasciare entro 24 ore il comune di Torino e non tornarci per un anno o due anni in altri casi. Questo è assurdo perché noi siamo tutte persone legate alla città di Torino. Io a Torino ho fatto la magistrale in psicologia, ho fatto il tirocinio post laurea e stavo per sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione che avrei dovuto sostenere da lì a pochi giorni e sono stato costretto a tornare nel mio comune di residenza a Firenze così tante altre persone che lavorano, che studiano regolarmente a Torino sono state costrette a lasciare la città. Quindi questa misura è una misura assolutamente protestuosa è un attacco politico chiaro al nostro movimento per questo dovremo, siamo costretti a fare ricorsi al TAR costeranno 500 euro a persona e per questo abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding, di raccolta fondi se volete contribuire vi chiediamo per favore di donare la cifra che vi sentite in questo modo ci aiutate a combattere questa ingiustizia a denunciare la verità sulla crisi climatica ed ecologica ed affrontare insieme la più grande crisi che l'umanità si sia mai trovata a vivere